Prima di iniziare questo episodio vi ricordo che in descrizione trovate un link dove potete acquistare The Sims 4, le sue espansioni e un sacco di giochi per PC e con sal scontati, anche in pre-order. Utilizzando quel link voi risparmiate e allo stesso tempo date un contributo concreto al mio canale. Ciao a tutti, Dreamlike Movie da il benvenuto a questo episodio speciale, questo episodio di intermezzo di Super Frida. Dopo un sacco di mesi torna su questi schermi, sui vostri schermi Super Frida, con questo episodio appunto speciale. Dopo aver terminato infatti l'ottava stagione della serie, tornando da Batuu, Frida ha scoperto la dura realtà riguardante suo figlio Aydan, che è un vampiro. Eh sì, è quasi scoppiata una guerra, ma per mantenere, diciamo, la pace, Frida ha deciso di non fiondarsi da Lilith e non far scenate inutili, insomma, di non avviare questa guerra che, sappiamo tutti, potrebbe scoppiare tra incantatori e vampiri da un momento all'altro. Ma perché siamo qua, Sulani? Beh, la famiglia, diciamo, si è concessa una lunga vacanza ed è tornata nella casa che era la loro casa qualche tempo fa, prima ancora che le bambine più piccole le due gemelle nascessero. E infatti adesso siamo qua, siamo qua con Frida che si dà alla cucina di prima mattina, in realtà sta cucinando per Erda. Julian che si fa un lungo bagno, insomma, tutti si concedono un po' di sano relax, tranne Ecate. Ecate che ha deciso di venire giù ad apparecchiare. Facciamo un breve recap di tutto quello che è successo, ma partiamo dai protagonisti di questa storia, per chi non l'avesse mai seguita. Ci troviamo dalla mia super sim, cioè quella che dovrebbe, in teoria, poi in pratica, chissà se mai lo faremo, completare tutte le aspirazioni, arrivare al livello 10 di tutte le carriere, arrivare al livello 10 di tutte le abilità. Quindi lei è la mia incantatrice Frida che mi porto dietro come strega da The Sims 2, ebbene sì. E questa è la sua famiglia, cioè Julian, suo marito. Vabbè, i componenti della sua famiglia non sono obbligati a partecipare alla sfida, ecco, non è che debbano per forza completare tutto. Frida sì. Poi c'è Melania, la primogenita, che è una sirena. A quanto potete vedere lei infatti ha insistito tanto per tornare a Sulani, perché è qua il suo ambiente, in fondo. Lei ha sempre voluto, da quando ecco, si sono trasferiti lontani da Sulani, lei ha sempre voluto tornare qua. Il suo cuore è legato a qui. La cucina è sublime. Frida gradisce la cucina, ma ovvio che sì. Frida gradisce tutto in realtà, eh. E poi ci sono le bambine piccole. Arianna, gemelle, tra parentesi, Arianna che fa questa faccia. Insomma, non è mica tanto contenta che la famiglia si sia divisa. Proprio no. E ci credo, poverina. Si potresti fare una faccia migliore, ma vabbè. Ok. E poi c'è Ecate. Lei, lei gliene frega niente. L'importante è essere in un posto figo e questo lo è. Però è brava, parecchia spesso. È brava, è brava. E infine ci sono i famigli dei nostri. Rusty, che è il famiglio di Julian, anche lui tra parentesi incantatore, e Erda che esattamente come in The Sims 2, vediamo se riesco a farvela vedere, ma mi sa di no, dopo la vedremo meglio. Comunque Erda è la famiglia, no? È il famiglio di Frida. Manca qualcuno. Eh sì, manca qualcuno, manca e anche tanto, adesso che me ne sono separata mi sto rendendo conto di quanto mi manchi, in realtà, manca il secondo genito, Aidan, il vampiro che ha tradito la sua famiglia. La sera della scoperta, chiaramente neanche a dirlo, è scoppiato il putiferio in casa. Putiferio che ha portato Aidan, innamorato di Lilith, che appunto ha chiesto a Lilith di farsi trasformare in vampiro per poter stare con lei, appunto l'ha portato a scappare di casa e rifugiarsi a casa Vattore. E quindi sì. E a Frida, ok, a lei non va bene questa cosa, ma sicuramente pensa che sia meglio così, anziché dover stargli a litigare e avviare una guerra e soprattutto per sbollire, perché se l'è presa così tanto con Aidan che forse è meglio che per un periodo non lo abbia sotto gli occhi. Ecco, facciamo colazione col pollo grigliato? Ma forse anche no. Vediamo se si può fare colazione con qualcosa di un po' meglio. Grigliamo. Nasato cos'è? Ma ci sono un sacco di cibi che non ho idea di cosa siano, non li ho mai sperimentati. Ma io volevo fare qualcosa tipo le crocchette, cioè non posso fare le crocchette, avevo un sacco di larve e cose così. Posso fare le crocchette di qualcosa? Ah, hot dog di larve, sì, con larve, ok. E no, come faccio le crocchette di cosi lì, di larve, di scarabelle, quello che è? Ne ho un sacco. Vabbè, griglia, facciamo l'hot dog con larve. Vai. Per colazione, cioè, meglio del pollo grigliato, no? Giustamente. Eh, lo so che avete fame, patate. Allora, facciamo e poi arriviamo al gameplay un breve recap delle abilità della nostra Frida, lei sta per completare, no, lei ha già completato, scusate, la... questo è creatività, ok. Per cui dovrebbe essere l'altra sottonatura. Sì, esatto, eco innovatrice, perché prima vivevano a... oddio, perché non viene mai la città dell'espansione vita ecologica? Vabbè, fa niente, lì, vivevano lì e doveva completare l'aspirazione di eco innovatrice, l'ha fatta. Adesso l'ho messa proprio così su... su questa, cioè, su questa, dov'è? No, non su questa. Oh, mamma mia. Vabbè, su eco innovatrice va... ah, ok, creatività. No, creatrice magistrale, ma tanto so che non lo faremo mai, perché adesso non mi va di rimettergli insetti. Magari facciamo una cosa easy in questo momento. Natura, botanista freelance, che ho visto che vorrebbe piantare qualcosa, ma sì, facciamo botanista freelance. E le sue abilità attuali. Vabbè, vediamo le aspirazioni che ha completato al momento. Allora, animale? No. Atletica? Nemmeno. quasi questo. Ah, allora possiamo fare questo. Dai, completiamo questo. Raggiungi il massimo potenziale fisico del sim. Va bene, come se non fosse già abbastanza pompata, ma vabbè. Poi, la sfida della positività l'ha fatta. Creatività, attrice magistrale e pittrice straordinaria. Devianza? Ancora no. Famiglia? Ci stiamo lavorando? Eh, sì. Forse con Melania ce la facciamo. Poi, cibo? No. Non abbiamo mai fatto cibo? A che punto siamo con questa? Uh. Ok. Ricchezza? No. Conoscenza studiosa di archeologia, incantamento e stregoneria e accademica. Luogo? Vita da spiaggia. Amore? Romantica seriale. Stiamo lavorando sull'anima gemella, però vabbè. Potremmo anche fare questo. Bah, no. Al momento no. Per quanto riguarda la natura, fornitrice di pozioni, esploratrice della giungla e eco-innovatrice. Popolarità, celebrità di fama mondiale. E Star Wars, speranza contro ordine e corsara galattica. Bene, torniamo su quella atletica. Ok. E per quanto riguarda abilità e tratti, oh mamma mia, abbiamo livello 10D. Logica, robotica, genitorialità, veterinaria, videogioco, archeologia, pittura, malizia, cucina, benessere, manualità, programmazione, fabbricazione, alta cucina, recitazione, carisma, comicità, forma fisica. E, ah no, scusate, livello 5, per cui massimizzate anche produzione mediale, ballo, fotografia, cultura, selva d'oregna. I tratti? Un casino. Ambiziosa, genio buona come base. Mecenate dei musei, sim mattiniero, vescica d'acciaio, attrice di fama mondiale, sim impermeabile, rilassata, benvenuto perenne, mescolatrice magistrale, trasformista, contatti, tiratrice di incantesimi, pulitrice veloce, mania ginnica, fama inarrestabile, allettante, sguardo acuto, senza preoccupazioni, narratrice ottima, oratrice naturale, espressionista, sapiente, seduttrice, acclimatamento al freddo, elettrice veloce, antigelo, antisettica, cacciatrice di tesori. Andiamo giù. Imprenditoriale, istruzione superiore e instancabile, acclimatamento al caldo, animale notturno, abile a baciare, personaggio influente, incredibilmente amichevole, sim cacciatore di tempeste, termoresistente, eco ingegnere, residente, collezionista, veloce a imparare. Benissimo. Brava Frida. Mai avuti così tanti tratti in un sim. Perfetto, allora, continuiamo. Continuiamo con non so cosa, dato che qua in effetti non abbiamo molto per la ginnastica. Vabbè, va, intanto che siamo qua, scusate, è ultimo, poi iniziamo veramente, facciamo anima gemella. Va bene, tanto tra poco cambieremo aspirazione. Eh sì, perché questo è un episodio di parentesi che è come un ponte per portarci verso altro. E vabbè, già sapete di cosa sto parlando. Tu stai andando a preparare la curazione? Bene. Bambine, cosa potete fare per le vostre respirazioni? Livello 10 di abilità mentale. Non abbiamo... Ah sì, ce l'abbiamo. Allora, sperimenta. Che bello tornare nella nostra vecchia casa di Solani quando Aidan era ancora un bebè e ha lasciato i suoi pasticci qua. Non è adorabile. No, non lo è. Frida, ripulisci intanto, per favore. Ecate, lei deve raggiungere il livello 10 di creatività e suonare uno strumento per un totale di 5 ore. Per caso Melania aveva lasciato qua un suo violino, qualcosa del genere? Temo di no. Allora, vediamo se ce l'abbiamo nell'inventario di famiglia. In caso, se non ce l'abbiamo, ne prendiamo uno. Allora, violino. Così almeno fanno qualcosa mentre i genitori preparano. Questo è per bambini? Vabbè, spendiamo poco. Chi se ne frega. E magari vieni qua a fare una bella serenata al mare, all'oceano. Benissimo. Melania se la sta nuotando. Per cui esercitati. Sì, non mangiare. Aspettiamo che arrivi papà con il pranzo. Tu stai andando a pulire. Melania si sta facendo una bella nuotata. Lei è ancora praticamente sta facendo signora degli orpelli, però penso che a questo punto possiamo cambiare aspirazione e metterle. Quello di luogo? Vita da spiaggia? Sì, intanto sì. Poi più avanti vedremo. Perché lei vuole diventare ambientalista, a lavorare per il benessere di Sulani. A proposito, a proposito, se c'è immondizia vediamo già di raccoglierla. Se c'è... Uh! Questi sono gli strombi. Questo è un altro strombo. Fa così. Metti nell'inventario. Qua c'è ancora questo per i bebè. Togliamolo. Tanto non ce ne facciamo più nulla. Al momento. Oh, Ecate, ci stai deliziando. Mamma mia. Tu stai andando... Ah, hai finito? Hai finito? Beh, allora andiamo tutti quanti a pranzare con... a pranzare, a far colazione, con l'hot dog di Larve. Via, tu Melania, ok. Prendi una porzione. Frida, prendi una porzione. Gnam, gnam. Tu hai fame, Julian. No, un pochino. Le bambine hanno una fame vorace. No, no, no. Non prendere una porzione di quello. Prenditele di questa la porzione. Bene. Buon appetito a tutti. Tu dove stai... Ah, si sta mettendo qua. Cambiati però, tesoro. Non fa tanto caldo oggi. Beh, adesso sì. Adesso sì. Comincia ad essere caldo. Per cui... Vabbè, resta anche in costume. Sei una sirena. Sei una sirena. Allora, fai così. Vai prima in bagno. Usa. E poi prendi una porzione. Eh, si sente la mancanza di Aidan, eh. Cercano di essere felici i genitori, ma non lo sono. Non lo sono per niente. Beh, comunque è stata una bella idea venire qua. Vero, bambine? Che ci stiamo divertendo? La nostra vita assume sfumature più colorate. Mamma mia. L'avete divorato. Ups, chi è? Vorrebbe venire da te. No. Non so neanche chi sei. Scusa, ma... Cioè, nulla di personale. Perché appunto non sappiamo chi sei. Però, no. Non volevo ascoltare musica. Siediti un attimo qua. Perché è una cosa importante da dire ai tuoi. Scusate. Cambiamo outfit perché tra un po' mi si sciolgono questi. Mettiti qualcosa di un po' più sulanese. Beh, sì, più o meno. Tu anche. Mettiamoci qualcosa di un po' meno caldo. Anche tu, Ecate. Ecco, ovviamente non riusciamo a stare seduti tutti insieme. Pfff, sia mai. Sia mai che succeda. Per carità. Dove stai andando? A raccontare un aneddoto divertente. Sì, forse sta cercando di risollevare sua figlia. Tesoro, mi fa piacere vederti sorridente. Beh, sorride perché è sull'anima. Non tanto per altri motivi. Perché lei era legatissima veramente tanto ad Aidan. Sono sempre stati appiccicati, lei e il fratello. E il fatto che non ci sia causa una ferita profonda nel suo cuore da sirena. Ma non fare attività extracurriculari. Vieni un attimo qua. Stai con la tua famiglia. E insomma, i genitori cercano di stare allegri. Però anche Julian è infuriato nero con suo figlio. Cioè, per una donna lui ha tradito tutti. Ha tradito la loro specie o razza. Insomma, chiamatela un po' come volete. Ha tradito tutti per una donna. Beh, anche tu Julian, eh. Perché tu all'inizio eri uno stregone nero. E hai cambiato sponda, diciamo così, per Frida. Ma vabbè, non è la stessa cosa. Non è come farsi trasformare in vampiro. Anziché seguire la via degli incantatori. No, no. Non è proprio la stessa cosa. Eccoli qua. Tutti assieme sono carini. Però la mancanza di Aidan si fa sentire e come. Eh sì, è incompleta questa famiglia. Allora, bambine. Oggi pronte ad andare a fare quattro passi? O magari Frida, potremmo farne quattro, io e te. Sì, mamma, papà, voi andate. Noi ci divertiremo qui anche a casa. Andremo a nuotare con Melania. Sì, papà, le porterò alla baia che conosco. Ma si può farla pipì in mare? Io la faccio sempre. E lei, brava, brava anch'io. Ma non si può farla pipì in mare. Ah no? Ragazzi, sì, vabbè. Vogliamo prendere un po' di sole allora? Prendi il sole, puoi? Ah, perché è chiuso secondo te? Vabbè, senti. Rilassati, bambine. Venite anche voi a rilassarvi. Fai un pisolino, perché sì. È la vostra vacanza. Fai un pisolino anche tu. E magari mamma e papà se ne possono andare un po' in giro, in santa pace, a farsi un bell'appuntamento come non accadeva da tempo. D'altronde, questa cosa, ormai è passato un po' di tempo, un po' di mesi, però sono ancora scossi. Quindi, diciamo che questa cosa non li ha allontanati come coppia, però giustamente, essendosi tutti rinchiusi un po' in sé stessi, non ha permesso loro di viversi il loro rapporto. Che è sempre stato molto intenso, in realtà molto profondo, sono sempre stati da diabete, loro due, per cui sì, è tempo magari di riprendere in mano il loro rapporto. Per cui dobbiamo guadagnare l'argento in due appuntamenti con il coniuge, intanto ne facciamo uno, per cui romantico, chiedi un appuntamento. E vediamo dove possiamo portare in qualche posto sulanese questi due piccioncini. Guardatelo però, Giulia, è triste, in fondo, è triste. No, non è l'ambiente sgradevole che ti rende così, lo sappiamo entrambi, che è per tuo figlio. Figlio di cui, l'unico figlio maschio che aveva, di cui andava tanto fiero, ha tradito il suo cuore di padre. E siamo al Sulani Resort di AMKJIA, versione originale di Sara Amina. Bellissimo. Io l'ho, vabbè, un attimo sistemato per l'occasione. Frida, grazie per questa splendida idea che hai avuto di venire qua. A trascorrere una giornata di sole e amore. Beh, qualcosa dobbiamo pur farlo, no? E pensare un po' a noi, non possiamo sempre pensare, insomma, alla nostra famiglia. Già, hai ragione. Allora, Frida flirta con il sim accompagnatore. Per cui, bacia sulla guancia. Dai, vieni, andiamo a prenderci un drink. Eh? E non pensiamo a nient'altro. Oh, che carini. Oh mio Dio. Salve. Oh mio Dio! No, non ditemi che c'è il piano del quartiere che prevede di mettersi il sacchetto in testa. No, vabbè, non è il nostro quartiere di residenza, per fortuna. Mamma mia. Dai. Cioè, ho Stulani con la gente che va in giro con i sacchetti di carta in testa. Ma pazzesco. Mamma mia. Sì, salve. La mia faccia è così in questo momento, esattamente così. Allora, siediti e chiacchiera qui con il tuo Julian. E prendiamoci qualcosa da bere, parliamo. Mamma mia. E come non puoi venire qua, Julian? Siediti, per favore. Sì, signora. Io mi sento come lei. Uguale. Uguale, uguale in questo momento. E se ne va. Ma porca miseria! La sfiga, praticamente. Non ci abbandona neanche qua. Sai, pensavo che saremmo stati serviti subito, ma a quanto pare non è così. Beh, nel frattempo approfittiamone per parlare, Frida. Quanto vogliamo rimanere ancora qua? Beh, quanto basterà? Beh, ma presto sarà inverno. E poi qua, insomma, la gente ultimamente a Sulani mi sembra andata fuori di testa. Tanto che non ce l'hanno più e la nascondono. Beh, sì, non hai tutti i torti, Julian. È romantico. Manda un bacio. Vabbè, l'importante è che siamo segni di mente noi, no? Nonostante tutto, lo siamo ancora, vero? Oh, certo. Ci puoi scommettere. C'hai il cambio qua? Oh, grazie. È lei la barista? No, ma che... Barista? Ah, arriva. Beh, cosa intendevi dire? Beh, intendevo dire che tra un po' sarà inverno, no? Non truffa per ottenere crediti. Romantico. Esperi il mio affetto. Complimentati per l'aspetto. Sì, beh, certo, tra un po' sarà inverno. Non sarà male passare l'inverno qua. Beh, se invece lo trascorressimo in un altro posto... Perché in un altro posto? Almeno qua si può andare in giro in maniche corte anche in piena estate. Beh, ma non sarebbe più bello, più carino trascorrere l'inverno in un posto dove c'è la neve? La neve candida, anziché andare in giro con gente che... Che buffa in questo modo, eh? Beh, sì, su quello hai ragione, hai proprio ragione. Ordina bevanda di gruppo. Facciamo... C'è il succo di cupido? Ovviamente no, quando ci serve non c'è mai. Ah, non ci sono più i baristi di una volta. Mare di fuoco, vai. Beviamoci sopra. Beh, ma tanto... Anche se piove qua si può stare dentro a giocare videogiochi. Ma perché stare qua quando si può andare in un paesaggio innevato? Dico bene? Non sarebbe bello trascorrere il Natale anziché in spiaggia di fronte a un pupazzo di neve? Beh, metà mondo lo trascorre in spiaggia il Natale. Beh, ma noi siamo abituati a trascorrere con i pupazzi di neve e non con i pupazzi di sabbia. Beh, non capisco le tue motivazioni, ma quello del sacchetto di carta in testa sì, la capisco benissimo. Quindi non posso che concordare. Aspetta, dobbiamo. Eh sì. Quindi sei d'accordo con me o non sei d'accordo? Beh sì, ma che cosa avevi in mente esattamente? Beh, ho scoperto un posticino. Niente male. Vabbè, dagli il suo numero. Niente male che si può raggiungere anche in auto da qua. Ma cosa stai dicendo? Siete in mezzo all'oceano. Qua in auto non vai proprio da nessuna parte. E che insomma potrebbe essere perfetto per i nostri figli. O meglio, per le nostre figlie vorrei dire. Beh sì, insomma, magari anche Aidan tornerà così. Non tornerà finché, e lo sa benissimo, finché non l'avrò convinto che dovrà tornare umano perlomeno. Non dico incantatore per forza, ma umano. Eh beh, Frida, alla fine è una scelta sua. No, non è una scelta sua. E se l'ha fatta, l'ha fatta veramente con poca coscienza. Pensavo che avesse più sale in zucca. Beh, anch'io a dire il vero. Beh, ma parlate nel frattempo, cioè parlate per davvero. Incanta. Con l'arco di cupido. Esprimi affetto. Eh beh, lui è subito flortante, ovviamente. Ovviamente. Beh, sì, insomma, un posto dove la gente è senza troppe pretese, dove ci si dà tutti una mano. Beh, un po' come tra noi incantatori. Beh, no, di più, di più. A contatto con la natura. Ma anche qua siamo a contatto con la natura, vero? Ma cosa continuo a guardare il barista? Ma cosa ve ne frega? Ma tutti qua a guardare noi. Ah sì, giusto, perché Frida è super famosa, tra l'altro. Beh, ovvio. Ma non potremmo concederci un momento di relax, magari? Un po' fuori dagli occhi? Eh, sei famosa, Frida. Cioè, non è che puoi farci molto. Con le decorazioni qua. Stupendo. Beh, comunque davvero bello come resort. Gran bella idea, gran bella realizzazione. Ottimo. Poi non so se è tutto funzionante, eh. Cioè, le camere, eccetera. Qui. Ah, forniture da spiaggia. Ah beh, sì, è un posto carino. Un resort con un paio di stanze, anche. Ci sta. È più per le coppie che per le famiglie, ecco. E quindi qua noi siamo, cioè, siamo a livello oro, di già. E quindi ti va la mia idea, andiamo a casa? Dalle ragazze a parlarne? Beh, prima magari finisci il tuo drink, Julian. Florta con qualcuno. Flortiamo con lei. Florta. Beh, sì, allora andiamo a casa a parlarne alle ragazze, perché no? Eh, sì, adesso arrivano le bevande a prezzo scontato. Vabbè, tanto abbiamo soldi. Ne abbiamo tanti. Tutti guadagnati. Beh, allora andiamo. Andiamo a parlar loro di questo cambio di musica nella nostra vita, ancora una volta. Eh sì, andiamo, torniamo a casa dalle ragazze, chissà cosa staranno facendo. Secondo me sono andate in esplorazione con Melania in giro da qualche parte. O forse no, sono rimaste lì. Chi lo sa? E siamo tornati a casa. Vediamo allora cosa rispondono le ragazze, eh? Chissà cosa stanno facendo. Secondo me sono ancora in giro. Bambine? Ragazze? Più che bambine, perché c'è anche Melania. Allora, no. Le ragazze sono qua. Allora, Arianna è nella piscinetta per bambini. Ecate sta giocando a scacchi. E Melania dov'è? Pfff, al computer. Con chi starà accettando? Beh, dal sorriso, secondo me, con qualcuno di cui è cotta. Bambine, venite un attimo qua, dobbiamo parlarvi. Allora, siediti. E siediti. Arianna, uffa, mi stavo divertendo, però si siede. Anche tu, non riporre giocattoli per animali. Siediti. E tu, lucida. Ma no, vieni qua a sederti. Secondo te come la prenderanno? Ma secondo me è bene. Sì, mamma, sì, papà. No, adesso ve ne state qua. Ah, vabbè, se vuoi baciarla, baciala. Sì, mamma, sì, papà. Ah, un secondo, devo baciare vostra madre, perché è così bella. Allora, vieni qua. Vai qui. Tu, Frida, siediti. Allora, io e vostra madre abbiamo pensato. Beh, in realtà tu hai pensato. Conversazione profonda. Tu stai ferma lì, ecca te. Stai ferma lì. Chiedi della sua giornata. Siediti. Melania, siediti. 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 Tesoro. Sì, papà, abbiamo pensato io e vostra madre che è giunto il momento di terminare questa vacanza e andare in un posto dove le nostre stelle brilleranno. Cosa? Torniamo lì. Lì, a Del Sol Valley. Sì, dove ci sarebbe la loro residenza principale. Ma no, tesoro. In un posto molto, molto migliore. Fermati. In un posto molto, molto migliore. Dove la natura regna sovrana. Bah, anche qua la natura regna sovrana, papi. E poi io sono stufa. Io volevo andare a Del Sol Valley. Lei sì, lei vuole far la vita proprio da star. Da piccola star. Ebbene. No, ce ne andremo via da qui in un posto totalmente diverso. Sempre emerso nella natura. Ma è un posto nuovo. Oh, che bello, papà. Io ti seguirò ovunque. Lo so, scricciolino mio, lo so. Ecco a te. È legata a suo padre. Forse più delle altre figlie. No, io volevo tornare a Del Sol Valley. Sì, Edithi, ti prego. Ma posso dire la mia? Certo, tesoro. Col tuo sorriso può dirmi tutto quello che vuoi. Beh, direi velo. Il vero... Io preferirei stare qua. Ma come restare qua? Ma sì, qua dove c'è sempre il sole. Eh sì, certo. È per un ragazzo che vuoi stare qua. Beh... Beh, in realtà sì, eh. Melania. Lo sappiamo tutti che tu sei innamorata di Prince Azul. Che è il bel tritone di cui... Per il quale hai perso la testa. Ma che però no. Sai che non è destinato a te. Però qua, sì. Spesso si incontrano i suoi amici. Poi ha... Al suo amico delfino. Insomma, è il posto. Insomma, non vi sto dicendo... Barzellette. Poi qua c'è l'acqua. Io devo stare in acqua. Se no mi si seccano le squame, no? Beh, sì, anche tu hai ragione. Beh, allora, facciamo così. Allora. Sì, va bene, grazie. Allora, facciamo così. Dice Frida. Tu... Oh, mamma mia, no. Tu puoi restare qua? A patto che ci vieni a trovare spesso. E che ci fai sapere come va. E ovviamente quando veniamo qua la casa deve essere perfetta, eh. Perché anche noi vogliamo fare vacanza e non venire qua a lavorare. Ma certo, mamma. Non ti fidi di me? D'altronde lei ormai è grande. Cioè ha quasi 18 anni forse. Sì. Per cui dai. Poi non sarebbe completamente sola. Cioè ci sono qua il re del mare e la regina. I genitori di Prince Azul. Che comunque la terrebbero d'occhio. Ecco. Non sarebbe abbandonata a se stessa. Poi qua a Surani sono tutti una grande famiglia. E poi, vabbè, loro letteralmente sono a un colpo di pinna di coda. Uh. Ci sono altre sirene? Non esattamente. Ah, sì. È certo. Nalani, ovvio. Vedete, è pieno, è pieno. Basta gettarsi in acqua che è pieno di gente e di sirene, soprattutto. Sirene e tritoni. Per cui, sì. La nostra Melania per intanto resterà. Non è detto che non... Cioè che anche... Che perderemo anche lei. Anzi. Probabilmente tornerà... Verrà. Anzi. Per nostalgia. Uh, si parlava prima del re del mare. Ed eccolo qua. Silversea Royal Mare. Si è venuto a farci visita, caro? Vabbè, è meglio. Così potremo parlarti della serie. Noi ci trasferiamo, però Melania resterà qua. Per favore, datele un occhio. Va bene, allora è il tempo di organizzarci. Trovare una bella casetta per quando saremo là e potremo partire. Ma poi qua se facessi anche una figuraccia potrei mettermi un sacchetto di carta in testa. Pare che ultimamente vada non di moda qua sull'Annie. Pare di sì. Pare proprio di sì. Vabbè, lei ha sempre fame. Presa quei dolcetti. Va bene. E quindi noi ci trasferiremo senza di te, Mel? Sarai io la principessa di casa di nuovo? No, c'è anche lei però. Ecco, secondo lei fa la parte della strega cattiva. Ecco, quindi è più che contenta. Potrà essere la principessa viziata di casa. Dove stai andando? Vabbè, vai un po' dove ti pare. Perché io direi che a questo punto vi saluto. Questo era solo un episodio parentesi per lanciarci a capofitto nella prossima stagione di Super Frida. E anche magari per riprendere un po' di confidenza con i personaggi. Mamma mia, c'è un sacco di gente qua oggi. Per cui ci fermiamo qua per oggi. Io spero che vi sia piaciuto questo episodio. Se è così lasciate un bel like. Mi raccomando, ricordatevi di iscrivervi. Se siete nuovi, attivate la campanella. Andate in descrizione dove trovate i link ai canali dei miei amici youtuber. Iscrivetevi a tutti quanti. Attivate le campanelle anche a loro. Trovate il link anche a tutte le mie serie. Per cui potete recuperarvi episodi di Super Frida che non avete mai visto eventualmente. Trovate anche i link ai social e al mio secondo canale. E anche alla mia affiliazione Instant Gaming. Mi raccomando, le espansioni le trovate anche lì. E a un ottimo prezzo. Per cui, detto questo, vi ringrazio tantissimo per la vostra attenzione. Noi ci vediamo alla prossima. E vi auguro una stupenda, stupenda giornata. Ciao a tutti! Ciao a tutti!